L'Urban Tree, questo sarà il nome dell'albero di città educativa, quindi dell'assessorato alla pubblica istruzione. L'albero che verrà realizzato in occasione dell'apertura di questo nuovo originale contenitore culturale, ossia l'Urban Center. E attorno a questo albero che sarà realizzato, nel senso verrà decorato dai ragazzi delle scuole coinvolti, presumo, con famiglie, insegnanti, nonni e quant'altro. Molto generazionale, quindi abbiamo una partecipazione molto generazionale. Le scuole e gli istituti comprensivi parteciperanno, creeranno l'allestimento di quest'albero, che verrà realizzato con il materiale di riciclo, il tetrapack, reperibile dai succhi di frutta, dall'interno, dall'involucro di cartone del latte e similari. Ciascun istituto realizzerà un modulo, una maglia realizzata con dei cerchi in tetrapack, che poi verranno annessi da anelli in metallo e insieme seguiranno poi il modello di una greca e verranno poi apposti e collocati nell'albero dell'Urban Center. Attorno al quale poi ci saranno tutta una serie di eventi, giochi, iniziative a tema natalizio per i più piccoli. Sicuramente sì, sia durante avremo poi l'occasione anche di inaugurare successivamente l'Urban Center, per cui da lì ci saranno una serie di manifestazioni e di eventi che coinvolgeranno i più piccoli e i più grandi. Lo ripeto ancora un'alto, così lo capisco anche io, più lo ripeto più lo capisco. L'albero in tetrapack è l'albero delle scuole. L'albero di città educativa realizzata con il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città di Siracusa. Abbiamo anche un tutorial realizzato molto grazioso, realizzato dai ragazzi della seconda B dell'Istituto Comprensivo Santa Lucia, che supporterà la fase preparatoria in tutte le scuole. Questa è la maglia. Questa è la maglia che verrà realizzata, questo è il motivo della greca che verrà seguito, che poi verrà assemblato e allocato. Una serie di tondi a misura di bicchiere, credo. Esatto, l'unità di misura è la circonferenza del bicchiere di plastica. Ecco, verificato. Esatto, verranno poi creati i quattro fori, verranno poi assemblati con degli anellini metallici e ciascun istituto realizzerà la propria maglia. Quindi il primo step è quello di portare a scuola, durante i laboratori che sono stati già calendarizzati con tutti gli istituti comprensivi, di portare gli involucri già ben lavati, in modo tale da poterli poi tagliare e creare la forma del cerchio. Il risultato finale, più o meno, è questo qui. Quanto è alto? Circa 10 metri l'albero, la struttura in ferro, verrà poi assemblata con queste maglie e verrà poi illuminata lungo tutte le assi verticali con un'illuminazione che ci sarà finanziata dai GM. Stanno lavorando già le scuole alle maglie? Quando è prevista l'inaugurazione poi dell'albero finito in tetrapacca? Il primo laboratorio partirà giorno 13, quindi alla prossima settimana. Da lì seguirà tutto il mese di novembre. I primi dicembre, con molta probabilità, saremo in grado di assemblare e coinvolgendo anche le scuole, cercheremo di costruire il nostro albero, l'albero della città. Assessore Boscarino, tutorial, le maglie, ma anche una poesia questa? Una poesia, sempre una poesia realizzata dai ragazzi della seconda B, una graziosa poesia del rima. Del comprensivo Santa Lucia. Sì, del comprensivo Santa Lucia. Sono stati molto bravi e hanno sentito quel tema, il coinvolgimento di... Sotto vedo rima baciata. Hanno fatto delle rime, hanno creato, sì, frutto della loro iniziativa, frutto della loro creatività, per cui io mi sento ecco di ringraziarli, di ringraziarli soprattutto per il coinvolgimento, per la capacità che hanno, per l'attenzione che hanno mostrato nei confronti di questa tematica, ma che sono certa che ritroverò in tante altre iniziative. Grazie. 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 Grazie.